Preoccupa e non poco la proliferazione di granchi blu, una specie di crostaceo molto aggressiva e avida, soprattutto di molluschi. Una problematica che comincia a interessare anche la nostra regione. Per questo motivo l'ente regionale, attraverso il vicepresidente Emanuele Imprudente, ha diramato una nota contenente direttive per il contrasto alla diffusione del granchio blu, dove viene chiesto di comunicare le aree delle acque territoriali regionali, nelle quali il fenomeno della diffusione di questo crostaceo rappresenta un'emergenza. Il granchio blu attacca tutto, le uova, i pesci, le seppie, secondo me mangia tutto. Come dicono i colleghi del nord, è un distruttore, addirittura pure le anguille, stanno disurgendo le anguille. Attualmente il problema a noi non si vede, però qualcuno è stato già preso, ma già due anni fa ne ho trovato uno qua vicino al fiume, qua alla riva. Sono aggressivi, come dicono anche i colleghi su, con le vongolari non si riescono a prendere, perché quando passa la vongolare si alza. È furbo, è un predatore furbo, venuto dall'America del nord. Per il momento nel nostro mare la situazione quindi sembra essere sotto controllo, ma la tensione deve rimanere alta perché si tratta di una specie molto aggressiva. In particolare per i vongolari questo crostaceo, soprannominato killer dei mari, rappresenta una minaccia. Noi siamo pronti ad intervenire, io ho pure la piccola pesca, magari ci attrezziamo un qualche mezzo per la cattura di questi crostacei. L'unica cosa positiva è che questa tipologia di granchio è buonissima da mangiare, ha un sapore che ricorda l'astice. Sono anche ottimi nella pentola per la cucina, come hanno cominciato i ristoratori. Bisogna studiare una strategia di portarlo sui piatti, toglierlo dal mare e metterlo nei piatti, perché se è un invasore che si arriva non è una specie che qua da noi fa bene, questo distruggerà i banchi di vongolo, distrugge le uova, distrugge tutto.